Siamo tornati in diretta e come vi anticipavo sono qui con me due graditissimi ospiti, il giornalista Genaro Tedesco e il professore storico del cinema Eusebio Ciccotti. Buongiorno e benvenuti. Grazie a tutti. Grazie a voi per la disponibilità, come dicevamo ai nostri amici e amiche che ci seguono da tutta Italia, da tutta Europa ma anche da tutto il mondo se si collegano su www.padrepio.tv Ritorniamo a parlare di Padre Pio, lo facciamo attraverso una storia particolare, possiamo definirla così, quella della realizzazione del film di Padre Pio da parte di Abel Ferrara e poi ovviamente il film stesso. Una produzione molto particolare realizzata tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 che è andata in anteprima al Festival del Cinema di Venezia, però io non mi dilungo oltre perché i nostri ospiti sono qui proprio per parlarci di questo evento che poi ha avuto un'ulteriore prima nazionale in versione italiana proprio a San Giovanni Rotondo tra il 26 e il 27 novembre organizzata dal comune di San Giovanni Rotondo che aveva messo su un team e dei frati Cappuccini ricordatevi, attraverso il lavoro di un team di cui Gennaro Tedesco è stata espressione importante, tanto poi da salire anche sul palco in fase di presentazione del film stesso. Allora Gennaro ecco ti vediamo anche qui in occasione della prima nazionale in lingua italiana nell'auditorium Meripail del santuario San Pio di San Giovanni Rotondo mentre l'attuale ministro provinciale padre Francesco Di Leo fa gli onori di casa, una produzione che come dicevi giustamente tu è stata realizzata in sinergia dai frati e dal comune di San Giovanni Rotondo, gli stessi frati che hanno ospitato anche l'attore Shia Lebev in alcuni conventi dove sono state non solo girate le scene del film ma dove lui ha fatto una sorta di preparazione anche psicologica al ruolo da protagonista che ha rivestito. Sono tanti gli spunti, adesso magari uno alla volta li affronteremo senza particolare premura perché il tempo per parlarne non ci manca. Gennaro com'è stato vivere questa esperienza? Cosa ti ha colpito di più? Beh è stato importante innanzitutto organizzare questo evento, è stata importante quella sinergia che si è messa in moto, quel bel gruppo che siamo riusciti a mettere insieme e poi come dire era importante fare questa presentazione, la prima nazionale del film di Abel Ferrara a San Giovanni Rotondo, per una serie di motivi ovviamente perché Padre Pio è San Giovanni Rotondo quindi era importante, importantissimo, dopo che il film è stato appunto a Venezia ed ha avuto un bello successo di critica eccetera. Dopodiché una delle critiche... Ti chiedo solo qual è stata la differenza tra la prima di San Giovanni Rotondo e quella di Venezia? No è stata innanzitutto che a San Giovanni Rotondo la prima è stata in versione italiana cioè con il doppiaggio. Perché a Venezia? Perché a Venezia è andata in inglese e con appunto diciamo parte della critica cinematografica ha anche criticato il modo in cui alcuni attori italiani parlavano in inglese perché Abel Ferrara il film l'ha fatto tutto in inglese ovviamente però come dire la versione italiana rende di più maggiormente diciamo anche sul piano del clima ecco. Quindi è stato importante farla anche perché il 26 di novembre a San Giovanni Rotondo abbiamo fatto questa presentazione ricordavi che ho condotto io insieme a Martina Di Fonte e è stato difficilissimo perché non è facile intervistare Abel Ferrara perché poi lui alla fine gli spazi si riprende da solo io a un certo punto in quella serata gli ho detto vabbè ma lei è il regista nella vita proprio insomma per cui mi ha fatto parlare ben poco perché poi lui non accetta un po' gli schemi non accetta il fatto di stare lì seduto no? Il fatto che si rivolgano delle domande non è diciamo sicuramente un personaggio facile seppur diciamo un grandissimo regista che è un altro punto di forza diciamo di questo film che lo possiamo dire ecco l'altro elemento che dico subito secondo me questo e poi su questo secondo me il professore mi darà ragione è il primo film di Padre Pio che rompe un paradigma narrativo classico diciamo degli anni 90 ed è il primo film d'autore seriamente d'autore su Padre Pio poi dopodiché dentro c'è ovviamente la visione più che del Padre Pio che tutti sono abituati diciamo a sentirsi raccontare c'è la visione del regista di Padre Pio che si sofferma su un passaggio importante forse in modo inedito no? sulla prima parte della vita di Padre Pio cioè che probabilmente negli altri film è quella che viene raccontata meno no? Cioè noi siamo abituati al Padre Pio sofferente a quello degli ultimi anni a quello che appunto di casa che costruisce la chiesa eccetera qui parliamo del Padre Pio giovanissimo con i dubbi di un uomo innanzitutto no? E questo rende veramente da punto di vista narrativo racconta diciamo un Padre Pio molto molto interessante a me il film è piaciuto moltissimo e anche la scelta perché come sapete esiste una doppia narrazione in questo film esistono i fatti di San Giovanni Rotondo dell'Eccide nel 1920 e Padre Pio da una parte due fatti che non si incroceranno mai durante il film ma volutamente non si incroceranno mai perché non c'entrano nulla apparentemente apparentemente perché apparentemente? Perché in realtà parliamo del contesto storico cioè Abel Ferrara è l'unico regista che si occupa di Padre Pio e racconta il periodo storico di San Giovanni Rotondo cioè quello che era quello che è accaduto quello che accadeva no? È come raccontare la Palestina di Gesù Cristo e raccontare tutte le questioni che avvenivano in quel in quel periodo no? Un compito assolutamente arduo non facile il film non arriva ancora nelle sale cinematografiche non è stato ancora distribuito però le persone che lo hanno visto sostanzialmente si sono divise in due come un po' succede spesso di fronte a grandi temi Professor Cicotti l'era presente alla Prima Nazionale Lingua Italiana e nell'intervento che ha fatto dopo la visione del film è parso visibilmente colpito, emozionato possiamo dire da questo film che cos'è che ha suscitato questa grande partecipazione emotiva alla visione del film? Il film innanzitutto è un racconto coraggioso dal punto di vista filmico come diceva Gennaro come fai a far scorrere in maniera parallela evitando il didascalismo, la vita privata di uno sconosciuto frate sul Gergano e dei fatti storici importanti però che accadono in un piccolo paese nel 1920 in Italia il cinema ti offre una soluzione che è il montaggio in alternato quindi Abe Ferrara omaggiando anche la storia proprio del linguaggio filmico da Porter in poi, da Griffith in poi, usa il montaggio in alternato ma la soluzione intelligente dal punto di vista dell'estetica filmica è che non abanalizza un altro regista avrebbe magari fatto vedere Padre Pio che incrociava i fatti di San Giovanni fisicamente o che si affacciava magari alla finestra e guardava i tumulti nel paese no, questo sarebbe stato didascalismo, sarebbe stato non cinema ma un racconto banalizzato invece come le due storie sono indipendenti Padre Pio è all'oscuro dei fatti e coloro che protestano e che purtroppo poi vengono uccisi sono all'oscuro di questo frate misterioso chi è invece colui che deve unire queste due anime del racconto? direbbe Ricard è il destinatario, siamo noi è questa opera di montaggio a cui lo spettatore è chiamato questo è cinema veramente d'avanguardia cioè non siamo passivi non ci ha raccontato una storia in maniera tradizionale questo per me è la novità di questo accostamento che noi poi dobbiamo unire bellissima questa lettura di questo film così potente da un punto di vista della storia, delle immagini, della fotografia sulla quale ci soffermeremo vi ringrazio prof perché poi tante volte ecco la funzione del critico è quello di aiutare anche il pubblico ad una maggiore consapevolezza nella fruizione di un'opera, un'opera d'arte come quella che è appunto anche rappresentata da questo film noi ci fermiamo soltanto un istante poi ritorniamo insieme a immergerci nel clima creato da Abel Ferrara un film che come anticipavamo in larga misura è stato girato anche sul Gargano a Monte Sant'Angelo ma non solo per cui ritorniamo tra qualche istante non andate via Come promesso siamo ritornati subito in diretta anche perché il tema ci è molto caro e le cose da dire sono tante Professor Ciccotti questo film tra l'altro tu lo hai portato anche nel mondo della scuola a Guidonia solo qualche mese fa lo hanno visto quasi 2000 studenti guidati a quella consapevolezza di cui si parlava prima nell'approccio al film i ragazzi come lo hanno preso? Devo dire che loro si aspettavano un film religioso invece hanno scoperto che in un piccolo paese del sud Italia c'era un gruppo di giovani che voleva dimostrare democraticamente voleva il diritto al voto e con una purtroppo gravissimo eccidio la cosa interessante è che è stato per loro un arricchimento del programma storico di storia perché spesso questi fatti nei libri di storia non sono menzionati anzi grazie agli studiuti di San Giovanni grazie a questo film molti hanno conosciuto questo fatto molti docenti di storia che insegnano nelle scuole non sanno di questo fatto quindi questo film secondo me ha un valore pedagogico incredibile ma il bello è che padre scusatemi Abel Ferrara dice ragazzi dovete in inglese ovviamente avere coscienza dovete conoscere il vostro paese San Giovanni la vostra storia di voi italiani questa frase è bellissima quando Abel Ferrara ha allargato la vicenda di San Giovanni ai destini dell'Italia di un paese che nasceva dopo la grande guerra grazie grazie prof condivido assolutamente e con Gennaro abbiamo sperimentato quanto poi il film il cinema dico meglio sia in grado di scuotere le coscienze di arrivare a grandi e piccoli e quanto sia importante proprio per riportare all'attenzione anche ecco episodi dimenticati fatti storici del tutto sconosciuti come in questo caso Gennaro una considerazione che tiene dentro tutti questi elementi beh allora innanzitutto il comune di San Giovanni Rotondo l'estate scorsa in contemporanea con l'uscita del film della prima a Venezia del film di Abel Ferrara mi ha chiesto di realizzare insieme all'ampito di San Giovanni Rotondo un documentario per le scuole relativo diciamo proprio all'eccito del 1920 quindi vuol dire quello che diceva il professore è vero anche io vado nelle scuole al mio piccolo con questo piccolo documentario che c'è su Youtube quindi se volete vedere lo potete cercare il 1920 l'eccito di San Giovanni Rotondo in cui ci sono varie testimonianze c'è questo c'è questo racconto questa la potenza diciamo di Abel Ferrara del film di Abel Ferrara non è tanto quella di aver portato diciamo alla luce episodi che non erano conosciuti a livello nazionale ma secondo me di avergli dato un taglio come dire non di giudizio come spesso è successo per fatti gravi come questi cioè non ha detto la storia è andata così ci sono i vincitori e i vinti ci sono quelli buoni e quelli cattivi anche perché come dire chi conosce Abel Ferrara chi ha visto i film di Abel Ferrara sa benissimo che lui è attratto diciamo in qualche modo dalle vicende che poi sono così gravi e sono così diciamo profonde anche nello stesso tempo perché voi immaginate lo diceva il professore prima che cosa questi giovani insomma socialisti che cosa volevano appunto che cosa chiedevano chiedevano sostanzialmente di essere trattati come delle persone umane no? e quindi questo banalissimo pensiero eccetera che poi si è trasformato ovviamente come dire che ha aderito a un'ideologia ma è come dire è sempre un fatto storico no? è sempre quel contesto lì e poi l'altra cosa molto molto interessante come dicevo prima è che i due fatti non si incontrano perché secondo me è fondamentale cioè chi ha visto con sospetto quando c'è stato questa quando è stata lanciata l'idea di questo film quando si è saputo che Abel Ferrara aveva girato un film su Padre Pio era quello che ci potesse essere diciamo una sorta di come dire di conflitto tra i due eventi tra le due storie invece così non è ripeto prima come detto prima sono due storie parallele sono due storie bellissime e sono due storie estremamente travagliate cioè quella di Padre Pio uomo che come dire viene tentato i suoi studi e poi c'è da dire un altro aspetto Braucci che insieme a Abel Ferrara ha scritto questo libro questo film si ispirano ai diari di Padre Pio da giovane che è un'altra parte fondamentale di Padre Pio un po' come l'Eccisa del 1920 che è conosciuta pochissimo cioè sarebbe veramente il caso vengono scritti tanti libri su Padre Pio ma di approfondire ulteriormente perché là stiamo parlando di prima di Padre Pio insomma con l'estima prima dei miracoli cioè che cosa porta che cosa succede nell'animo di una persona che sente diciamo alcuni tumulti alcune alcune questioni ecco questo questo aspetto qui è l'aspetto interessante l'aspetto come dire più umano quello più inedito di Padre Pio che secondo me viene fuori in questo film e quindi dobbiamo veramente secondo me ringraziare Abel Ferrara io ho sentito l'altro giorno la produzione interlinea film chiedendo appunto se c'erano delle novità appunto di questa distribuzione in questo momento sono a Berlino dove c'è la fiera del cinema e quindi stanno discutendo proprio del futuro di questo film dicevamo prima col professore che noi non abbiamo dubbi per una serie di motivi che questo film verrà distribuito tenete presente che quando il film è stato presentato a Venezia c'era anche l'incognita se poi ci fosse stata la versione tradotta in italiano doppiata in italiano quindi il fatto che sia andato bene a Venezia la mostra cinematografica di Venezia poi dopo successivamente è avvenuto il montaggio questo perché per quello che dicevamo prima perché non è il classico film di Padre Pio è un film diciamo d'autore tra virgolette difficile come dire non arriva immediatamente o comunque rompe quello schema narrativo diciamo del classico Padre Pio a cui tutti quanti tutti noi eravamo abituati e quindi adesso si sta ragionando in prospettiva quindi il film dovrebbe secondo noi uscire perché ci sono alcuni ingredienti che sono importanti c'è ovviamente il nome di Padre Pio c'è la città di San Giovanni Rotondo che è conosciuta in tutto il mondo e c'è anche un grande regista che è Abel Ferrara e ricordiamo anche il cast che è un cast e c'è il centenario della prima guerra mondiale che si è chiuso due anni fa e poi assolutamente sì paradossalmente proprio il fatto che un film possa non essere compreso immediatamente da tutto il pubblico può generare anche una maggiore curiosità nel andare a scoprire nel poter dire la propria andare a scoprire capita sempre professore che quando uno vede un film dopo che ha letto il libro dice secondo me non è la stessa cosa ma perché è chiaro perché quando tu leggi il libro te la fai tu la tua immagine la tua sceneggiatura la tua sceneggiatura mentre in realtà poi ti devi adattare il tuo pensiero del film del libro devi dimenticare quello che tu hai pensato e accettare o non accettare ma questa è una regola diciamo del cinema della trasposizione in ogni caso e in ogni caso allegare le due storie che si raccontano nel corso del film c'è una fotografia potente e una luce crepuscolare se vogliamo che aumenta tantissimo il fascino di queste due vicende le lega come dicevo prima e restituisce in maniera abbastanza inequivocabile un mondo che non esiste più e che però ecco dovrebbe averci lasciato degli insegnamenti importanti professor Ciccotti quindi fotografia e luce che hanno contraddistinto lei ha ragione perché poteva scegliere una fotografia pastellata una fotografia leccava invece no sceglie anche in alcune scene di sgranare la fotografia per dare proprio il taglio della foto da reporter della foto che prende l'evento sul fatto le foto che purtroppo vediamo in questi giorni dalla Turchia dalla Siria è una fotografia documentaristica e in questo va dato come dire va reso omaggio a Ferrara per questa scelta perché un film così potente un film così come dire interiore ma anche esteriore con una fotografia leccata Arcobalena avrebbe avrebbe sarebbe un po' troppo come dire hollywoodiana grazie professore grazie anche a Gennaro tedesco abbiamo ancora qualche minuto per poter tirare le conclusioni mi piace soffermarmi anche sul coraggio che hanno avuto i nostri frati cappuccini nello sposare quest'opera così particolare non hanno avuto paura di esporsi anche pur di celebrare un'opera artistica che come dicevamo ci aiuta poi a riflettere ci aiuta a recuperare dei passaggi storici che tante volte possono essere dimenticati o addirittura non conosciuti ma gli spunti di riflessione sono tanti per cui vi lascio una battuta conclusiva a testa per restituirci qualche cosa che vi sta più a cuore su quello che dicevi fra Francesco Di Leo e i frati di San Giovanni Rotondo sono andati innanzitutto a Venezia a vedere il film quindi sono andati al festival di Venezia e hanno fatto secondo me benissimo quando ci siamo visti la prima volta per discutere appunto di come organizzare questo evento fra Francesco ha detto a me il film è piaciuto tantissimo però l'unica questione è che il messaggio che deve passare è quello che non è un classico film di Padre Pio biografico biografico sia angiografico più che altro come si dice tecnicamente e alla fine dell'evento c'è stata una battuta tra me e fra Francesco perché quando insomma è andato bene ricordiamo che sono state tre proiezioni a San Giovanni Rotondo la prima che è quella di cui avete visto le immagini poi c'è stata una masterclass al mattino eravamo tutti preoccupati alle nove del mattino gli studenti invece in realtà era pienissima anche quella poi c'è stata la domenica sera quindi sono state più di mille persone che hanno potuto vedere questo film in modo gratuito in anteprima e ho detto fra Francesco secondo me anche Renzo Piano è contento di come è andata questa nostra iniziativa proprio perché abbiamo riempito questi fantastici luoghi progettati da Renzo Piano di cultura insomma di incontro di confronto poi ripeto alla destra di alla sinistra scusate di Abel Ferrara e Braucci e quindi e poi Abel Ferrara è un personaggio sicuramente non facile ripeto io l'intervista ovviamente l'ho preparata con cura come fanno i bravi giornalisti però sono riuscito a fargli due domande diciamo su dieci però lui è così e fa parte insomma del personaggio anche il film rappresenta moltissimo professore quella che è la storia di Abel Ferrara no? anche il suo il suo vissuto la sua ricerca ovviamente professore a lei le conclusioni niente cinema e fede il cinema nasce nel 1895 a cura dei fratelli Lumière già nel 96 97 i primi film parlano della natività di Cristo quindi il cinema ha sempre sposato anche il tema della fede quindi qui chiudiamo per il momento questa lunga parentesi che comincia da più di un secolo fa e speriamo che ci siano altri film dedicati alla fede a queste figure e cinema televisione siamo qui in televisione parliamo appunto di fede grazie che ci diano modo di riflettere ancora noi speriamo che questo film arrivi presto nelle sale e comunque possa essere fruito da quante più persone possibili così magari torneremo a parlarne nuovamente coinvolgendo direttamente anche il nostro pubblico grazie Gennaro Tedesco grazie a te grazie professor Ciccotti quindi questo non è un addio ma un arrivederci bene ancora grazie